Direi che siamo al centro, nel senso che il fare, la produzione, il prodotto, la concretizzazione del prodotto è al centro del fare scuola sempre e comunque. Credo davvero che a livello regionale i nostri ragazzi sono tra i migliori a livello europeo e se la fanno alla grande con i risultati di finlandesi o quant'altro, quindi davvero un'immagine ingenerosa quella di ragazzi che dormono, bambossoni o quant'altro, sono enormemente svegli, è alla politica quello che dichiara e cioè che stanno davvero realizzando il futuro mettendoci le risorse indispensabili, i linguaggi, le tecniche, gli ambienti necessari.